Totti e Noemi, serata horror per nuova coppia, cosa è successo? Roma un bellissimo lunedì di paura per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ormai non si nasconde più e tra Abu Dhabi. Trigoria e le strade romane sta uscendo sempre più allo scoperto. A tal punto che un gruppetto di tifosi della Roma l'ha incontrata anche in un escape room sull'appia dove Francesco e Noemi si sono divertiti insieme agli amici. Un bel lunedì trascorso insieme nel divertimento. Anche nella paura, perché il tema della stanza era Freddy Krueger il famoso personaggio orrore che terrorizza le vittime con i suoi affilati artigli. Insomma, divertimento insieme agli amici, Totti e Noemi sono sempre più una certezza. Virgola.